Al termine di un'articolata indagine denominata Cloralix che riguarda il grave inquinamento dei fiumi Calore Sabato della provincia di Benevento, i garabinieri del gruppo Tutela Ambiente di Napoli hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di 12 impianti di depurazione gestiti dalla GESESA SPA, con nomina di un amministratore giudiziario ai fini della gestione e ai decreti di perquisizione messi dal pubblico ministero di Benevento nei confronti di 33 indagati. La Procura della Repubblica di Benevento procede per i reati di inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, gestione illecita di rifiuti, scarichi di acqua e reflu e senza autorizzazione, abuso d'ufficio e falsità ideologica ipotizzati nella fase delle indagini a vario titolo nei confronti dei soggetti gestori dei depuratori pubblici, amministratori e tecnici comunali che hanno rilasciato illegittime autorizzazioni agli scarichi di gestori di laboratori privati incaricati di effettuare le analisi sulle acque e oggetto di depurazione, di pubblici ufficiali incaricati di effettuare attività ispettive sul funzionamento dei depuratori gestiti nella provincia di Benevento, come detto da GESESA. Le indagini hanno consentito di riscontrare una presenza diffusa e massiva di scarichi diretti dalle fogne dei comuni di Benevento città e della provincia nei fiumi calore e sabato, dovuta in alcuni casi all'assenza di depuratori con emissione di reflu inquinanti direttamente nei corsi d'acqua e in altri a non corretto funzionamento dei depuratori. I dati dell'ARPAC hanno confermato il notevole deterioramento dei fiumi a causa degli scarichi di depuratori di acque gravemente inquinate da alluminio e piombo, elevate concentrazioni di azoto ammoniacale e perfino escheria coli, parliamo di scarichi di WC. Sono stati sottoposti a sequestro tre depuratori a Benevento, località Ponte delle Tavole, Ponte Corvo e Capodimonte, due a Telese Terme, località San Biase e Scafa, un depuratore a Frasso Telesino, località Arbusti, Melizzano, località Lago, Forchia, località Cagni, Castelpoto, località Portelle, depuratore Ponte, via dei Lungobardi, Sant'Agata dei Goti, località Reullo, il depuratore di Morcone nella zona industriale, località Piana.